40 anni fa nasce il nostro sistema sanitario nazionale per garantire la salute del cittadino italiano in maniera indiscriminata, così come sancito dalla nostra Costituzione. È vero che nel corso degli anni i cambiamenti sociodemografici della popolazione italiana, unitamente alle caratteristiche geografiche del nostro territorio, insieme al fatto che la ricerca scientifica a volte corre più veloce di quelle che siano le capacità di adattamento del sistema sanitario, fanno sì che la salute non possa essere garantita per tutti in maniera uguale. Ma così dovrebbe essere. Il nostro sistema sanitario è un punto di forza per il nostro Paese, che ancora ci caratterizza a distanza di 40 anni, nonostante gli indubbi limiti. Ed è per questo motivo che, in qualità di medico, di ricercatore e di presidente dell'Associazione Valce Onlus, sostengo la campagna di cittadinanza attiva per richiamare il diritto alla salute dell'individuo nell'articolo 117. Invito tutti voi a visitare il sito www.diffondilasalute.it per capire come contribuire alla campagna stessa e coadiuvare cittadinanza attiva in questo importante operato.